Buonasera, bentornati. Appena terminata la partita tra Economia Lido Arturo e Levi Eniken con un risultato di 7-0 per l'Economia Lido Arturo. Qui abbiamo la squadra che ha vinto, presentatevi. Scogna mio Ciro. Moscatelli Marco. Allora ragazzi, come è andata la partita? Abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo avuto un nuovo acquisto oggi, il nostro Ciro, il nostro Bomber. E niente, è stata una bella partita, i miei colli li voglio dedicare a Vittorio Cataldo che si è sposato qualche giorno fa. E niente, poi voglio salutare il nostro sponsor Lido Arturo. Tu hai segnato? Sì, sì. Quanti gole hai fatto? Più o meno tre, credo. Chi sei? Dimmi il cognome. Scogna mio Ciro. Scogna mio Ciro, due. Due. Ok, a chi li dedichi? Al mio nuovo amico che è qui in squadra, diciamo. Ok, il nuovo acquisto. Sì, sì, sì. Cosa ne pensi di questa squadra? Cosa c'è da migliorare? Ma nulla, sono bravi ragazzi. Niente, aspettiamo a vincere logicamente. Tu vuoi dire qualcos'altro? No, niente. Va bene, allora in bocca al lupo per il torneo e un saluto alla Mavericks.